ciao amici avete voglia di preparare un dessert fresco e veloce con le fragole di stagione che domande certo vediamo allora insieme la ricetta della mousse spumosa alle fragole e se volete altre ricettine golose light arrivate alla fine del video perché c'è un regalo per voi se vi piace l'idea mettete subito un bel mi piace a questo video tanti mi piace tanti nuovi video ingredienti per 4 persone 250 g di fragole 250 g di panna fresca o panna veg 65 g di zucchero di canna potete usare anche stevia miele sciroppo di agave o di acero per rendere la ricetta ancora più sana preparazione lavare le fragole togliere le foglioline verdi e tagliarle a pezzi aggiungere lo zucchero e frullare fino a ottenere un composto omogeneo montare la panna a neve e unirla alle fragole poi frullare tutto delicatamente disporre la crema nei bicchierini monoporzione o in una ciotola da portata decorare con fragole fresche e mettere in frigo e riposare 20 minuti e se per caso non ho le fragole come posso fare questa ricetta va bene con tantissima frutta si può fare la mousse con altri frutti come lamponi pesche albicocche seguendo lo stesso procedimento si può usare la mousse anche per farcire le torte fredde si può anche congelare per farne un dolce semi freddo basta tirarla fuori dal freezer 10 minuti prima di servirla se per questa ricetta usate la panna veg e un dolcificante alternativo potete ottenere tanti benefici le fragole sono antiossidanti aiutano a combattere i radicali liberi che bloccano il metabolismo la loro azione detox e i flavonoidi sono un boost per l'energia e la vitalità se usate panna veg assumete grassi light ma deve essere bio mi raccomando così avete un dolcetto light amico del metabolismo e perfetto per spezzare la fame per vedere tanti altri video di consigli per la salute e la forma fisica è facile iscrivetevi al canale attivate tutte le notifiche e scegliete le playlist dedicate se amate leggere in descrizione trovate il link ai miei libri ed ebook e in descrizione scaricate il mio regalo per voi una ricetta di frullato antiossidante brucia grassi con i frutti rossi mangiare sano è importante anche per i vostri amici condividete questo video può essere utile mangia sano e vivi meglio con il sistema di salute naturale di simona vignali iscriviti al canale